E signori avete letto bene dal titolo? Siamo ancora nella postazione di Reppi, tra l'altro lui si trova là dietro in fondo Cavo Reppi, eh, guardatelo com'è bello svaccato Nel mentre che io gli sto per far punti in arena e lui non se neanche è accorto Ma Reppi mi dai un premio vero p***o di questa cosa? Ok, in realtà è un premio perché giocare da qua raga è veramente veramente super figo Però vabbè mi aspettavo qualcosa in più, non so, magari mi offri una cena stasera No? 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 Ok, no, vabbè Comunque in ogni caso siamo qua perché oggi dovremmo provare a fargli un sacco di punti in ranked e portarlo fino ad arrivi C'è un grande problema di fondo, ovvero il fatto che raga non ha ancora giocato Quel bamboccio là dietro, no? Che state vedendo là dietro, speriamo non mi sente mentre lo dico Non ha ancora giocato le ranked, quindi è tipo a zero È tipo not sense sta roba, va bene comunque In ogni caso c'è un grande problema, ovvero il fatto che io abbia praticamente colto il fatto che Annaggia posso utilizzare, ok per me che posso fare così Ok, non posso per il inventario, bro La sai sta cosa? Ah, potrebbe aver cambiato il tempo piccone come teoricamente dovrei utilizzare il suo account Però non ho cambiato tutti tappi, automaticamente ci dovrebbero essere questa brutta situazione Vabbè fidati non è un problema, la mia metraglietta, uscio tutti e faccio il devasto Tu lo giuro, ti vinco con 70 qui Hai mai visto un incerto? Ottimo E invece lo farò proprio io, fidati anche perché siamo già in 89 Quindi adesso devi riuscire a cercare per fare Forse, molto inverso Venga, prendo persone che fightono Ok, fermi tutti Sono qua davanti Gli ho sentiti che non mi possono scappare Comunque vabbè, la metraglietta al gioco me la potresti anche darmela eh Adesso proprio così, una mitragliettina, un qualcosa Ok, buono Bene, va bene Va bene il vampa fucile Non è sicuramente il mitraglietto quello che volevo ma ci accontentiamo Si può sempre aver tutto alla vita E persone? Io ho sentito sparare un secondo qua Non ci sono più Ehm Ok Hanno lanciato una granata Ah ragazzi sto iniziando a sclerare Perché non c'è nessuna rotaia rischiata? Ok, eccolo Da qua Ah tra l'altro Mi è interessante non c'è neanche le piattaforme dove utilizzare tantissimo le scale Oh Oddio Ok, piano E questa situazione Molto C'è una brutta situazione eh Oddio Perché sento le operazioni? Raga posso usare solamente muro E scale Muro E scale Vediamo No, non posso neanche risentrare così Ok Senta Ho pure la sua Insensibilità C'è però uno di vivo ora Non ci può fare nulla il bro Se non scappare Il problema è che mi sa che è scappato Ma ragazzi ma Come sta al players? Players Ti voglio In questo momento ti voglio Dove stai? Su Devi mostrarti Dai non ci Ok Eccolo eccolo ecco Ma tra l'altro E' interessante non era Se non era Il tipo Incredibile Vero Non era lui Quindi Ho un'altra persona Certo Quindi perché Bro Allora Io adesso Spero Perché quando fai tu con uno Mi stai un altro Dietro Dai ecco Qua Eh sì C'è Quelle che quando fai di ferro Molto ovviamente Succede quello che appena successo Ovvero che muori Quindi che sia direzione per la prossima volta Non farlo Tra l'altro è impossibile mirare a condire più Perché alla mia macchina Non riesco a muovere Realmente nulla Quando Proprio Prendiamoci questo Prendiamoci questo Proprio bisogna di andare ragazzi Una mano al filo eh Troppi legali E ora ho paura di nessuno Si pusha Si ho paura di nessuno Si pulita tutto Sto davanti Sono più ampi lati Hai bro Ti vuoi frattare? Io ci sono eh Devo non ti nascondere Sei nascosto Sei nascosto Super bene tra l'altro Ma? No No ragazzi No Non ci credo Ma perché la gente sparisce? Divuso in bianco Così Io non trovo le persone Cioè Tra l'altro ancora sei sesso tu Ok Ah Ah Che volevi fare? Lo spieghi? Ve lo spiega adesso Me lo dici dopo No perché C'era qualcosa che tu volessi fare Magari ti faccio un Non so un regalino Non so Ti do quello che tu non potevi avere Essendo che sei morto in questo momento Ok Un po' troppo Arriverò Anche in questo Cavolo di partita In realtà non freddo proprio Perché Ripetono tutte Non mi ero dai C'è qua Come fai caro 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 45 play Rimasti Una sola cosa Fai caro 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 8 kg Si sono fatte da sole I 29 pigliari Rimasti stanno ottenendo Qualcuno degno di noto Vero perro Arrivi la per mostrarvi Che davvero degno di notte No comunque ragazze Non potete capire Voi non lo vedete ma C'ho letteralmente Soldi ovunque Il problema che mi andrebbe bene Finché Queste sono soldi veri Ma soldi finché Non è che me ne faccio troppo Ok No? No? Piano piano No non vi dovete filare Dovete spiegare in più io Ok Nel chill Così due pilotti Le ultime bombe Perfetto Dovrei una macchina A bruciare chiunque Dai ti prego Restami la macchina Però Mi prego no Non vi dovete filare Vi giuro vi do un panino Vi regalo un panino O qualcosa di più sano Se dovesse preferirlo No c'è un titillare forse No ok Ho tirato 1 Venite da me Venite da me Venite da me Spera me che si devasto Mamma mia comunque ragazzi Dira strafocola Bisogna dire che quando si Mi aveva giuro incredibile Non ho mai visto Un minino così lento Ora ho capito perché Lui è una mira incredibile Perché non può buildare Lettalmente Come si muove Prontamente Inoltre mi prova a sparare No Non avevo neanche il caricato No Ok Il piano Mi fai ricaricare per favore Il dottore gestione che sono Molto utili Ok Questo è finito La natura Non posso rispettare vero Amma mia buona 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 Vabbè Possono essere più forti del mondo Giustamente ragazzi siamo anche da un po' Infatti mi dispiace per quelli che avranno letto Pensando che io arrivassi davvero a real Io non pensavo che Mi bisogna dire Però Naturalmente pensavo che Vede fosse campione Diamante Ci sarei pure arrivato a real Cosa scopro che è? Ci stiamo puntando Ma si prende la sua acqua Se entra così Non guarda neanche le 13 bombe No no tranquillo Tranquillo Ho già capito che persona Eppure cattivo Eppure cattivo Eppure cattivo Includibile Eppure cattivo Subito Vabbè Vado a pushare altre persone Capito C'è un No 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 Devi venire a pushare Prego Decidi di venire a pushare Perché Devo pulare delle persone Dall'altro Sai che si è preso Naturalmente Con la macchina di tutto questo Ah e il duro ha fatto la giocata Eppure Eppure È una del peggiori giurale Che il domedissimo Ma io ti prendo questo E se ti appartita Beh Qui non può No non posso No non posso zettare vero Qui No 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 Non c'è come uno di vita Molto buono Ma ragazzi No l'avete sentito Il problema Ma ragazzi non avete capito Ok Un'unità Sì Fermi Fermi Oddio le abbiamo I quali di duro Fermi No Andrà Questa qua No Questa qua Eh raga Ma non posso per diventare Ma si intendete La mia difficoltà In questo momento Puoi prendere pure questo Ok tra l'altro Prendiamo questa Questo E prendiamocelo Invertito Mamma mia ragazzi Vediamo quanto lume E questa è la roba Sì Non ti vuole dare eh In che caso Non lo so eh Perché Non è così troppo forte E lo so davvero Per il frattempo Tiriamoci due mini E un po' di splash Non abbiamo da repullarci Non abbiamo davvero La cultura Oh Prendono Lo so che se ne va Ciarci Per quale venti bombe Devo pusciare Devo pusciare tantissimo Io posso sostenere così Poverello In quasi dispiace Non si è scherzato Se forse massi C'è una persona Deve buttare quest'anno non è stato la presenza pesato moto guarda no ragazzi troppi legato tra cosa non ha letteralmente un senso logico è troppo potente raga da di cosa stiamo parlando 50 danno e tipo l'abilità stellare è quasi shotta no ragazzi incredibile la roba col jetpack che tipo voli stranari e inizia a shotare è illegale non ha proprio un senso altra raga forse facciamo anche più di 20 bombe sarebbe molto molto divertente come cosa ok ho sentito le spalle di dietro ma devo andare a prendere il rift l'unica cosa che devo andare a fare per forza no macchina davanti va va ci sono gentissima ok puoi tirare la macchina tra un attimo pure ste mitraglie no ragazzi va troppo forte ah non c'eravamo il pompa non c'eravamo un pompa interessante non lo sapevo lo giuro allora tre persone rimaste altra me ragazzi siamo per venti sappiamo se mi ricorda del tempo il codice però per supportarmi veramente al massimo fondamentale utilizzatelo sempre gli 14 ore di scade per me che superi in connessione c'è una altra mezza l'idea che erano non mi stanno scherzando cioè io ho i poteri in giù ma lasciatemi in pazzo lo dico che roba tra l'altro va dritta ok troppo forte dove starà ora l'ultimo players hey baby dove stai tra l'altro penso come andrò fuori safe rischiando 2 ok no 5 eh perché spero di volare e non volare e vedermi i tuoi play adesso ho fatto più o meno ma ragazzi io ho già fatto nell'era anche nella portazione di rete io non lo so potrei averne fatto davvero poco oppure potrei avere un potentissimo senoro l'abbiamo fatto con il 150 per cento molto molto di più ora però dove sta l'ultimo player ma no prego di scapparmi la possibilità di vedere cose e altri cambiamenti ecco l'olto allora più velobiliamo non è così qua vai devo fare a capi basi per succedere per perdere no chi si spara scusate che è leggero molto molto facile allora voglio vedere raga che c'è te lo scommesso mi raccomando nel frattempo codice ferro in sezione quanto siamo saliti ooooh invece si carica tutto ok buono mamma mi ha dato qualche pie che abbiamo fatto con un casino di punti ooooh 22 kill in grado di saliti non ce l'ho nel secondo quasi 122 per cento posso dire che mi aspettavo qualcosa di più raga cioè 22 kill vittoria con 22 kill vabbè va bene comunque ci vediamo in un prossimo video mi raccomando ci vediamo in un prossimo video bella ciao